La Sardegna è uno dei posti più belli del mondo, proprio uno dei più belli, e i sardi, che sono un popolo antico, antichissimo e di grandissima personalità, con una cultura seria, profonda, e a contatto con questo secolo sciagulatore, anche loro si sono fatti travolgere. Mentre questa rarità e questa preziosità, questa natura, non è vero che è infinita, è finita e la stiamo massacrando. Quindi bisogna fare in fretta che le giovani generazioni realizzino i gravi errori che hanno commesso i loro padri e si diano seriamente da fare perché questo grande tesoro che noi stiamo dissipando malamente venga invece difeso e rispettato per quella meraviglia che è. Noi dobbiamo lavorare sulla qualità, non possiamo lavorare sul numero nel peggio, perché alla fine diventerà tutto uguale, diventerà tutto un'orrenda periferia.